Ariano! Ariano! Ci sono tutti. Sono qui. Mio marito. Tuo piacere, Nina Rizzi. Piacere, Ariano. Dovete collaborare. Qui mica tutti se lo possono permettere un vero avvocato da noi. Certamente. Allora, domani, avvocato. A domani. Con permesso. Da quando è tornata dal viaggio di nozze, è storta. Proprio di suo pugno. Anneno Ricci con l'augurio che non capisco. Che presto sia lui ad autografarmi la sua foto. È qui. Chi? Questo. Ma che dite? Ma lo sapete che è questo? È Sanso Fiormonte, il divo. Il protagonista di Fra Diavolo, dell'ultimo combattimento, di Spio fra le eliche. E cazzo non lo dite, scusate? Però nel nostro albergo a Bari. Quello che cercava le lumachelle di mare. Ma altro che lumachelle di mare. Questo cercava i soldi per fare il film. Cazzo Fiormonte a Bari per le lumachelle.